Il diabete è una malattia molto comune. Secondo la SID, la società italiana di diabetologia, in Italia circa 3 milioni di persone hanno avuto una diagnosi di diabete e accanto a questi si stima che un altro milione e mezzo abbia la malattia senza però saperlo. Il diabete è una malattia molto complessa in quanto è un contenitore molteplice di sindrome cliniche. Di fatto si tratta di malattie diverse accumulate dal fatto che la glicemia, ovvero lo zucchero nel sangue, è alta. Tra le complicanze maggiori che rappresenta il diabete, nel paziente cardiopatico questa è un fattore di alto rischio. Purtroppo gli studi clinici internazionali ci mostrano che la malattia cardiovascolare è la prima causa di morte nei pazienti con diabete mellito. La malattia cardiovascolare nel diabete necessita quindi un approccio articolato che tenga conto per curare al meglio il malato di tanti fattori. Di questo e delle nuove frontiere farmacologiche di come gestire il decorso della malattia si è parlato in un focus medico che si è tenuto all'ombra dei Torricini ad Urbino nell'aula magna del campus scientifico Mattei tenuto da specialisti e operatori che esercitano nelle strutture dell'area vasta 1. Non è un problema che può essere affrontato dal singolo specialista ma è necessario un lavoro di equipe fra figure anche apparentemente molto diverse fra loro soprattutto alla luce delle terapie più recenti che costituiscono veramente un enorme passo in avanti da questo punto di vista. È necessaria una diagnosi precoce, è necessaria la collaborazione anche di tutte le istituzioni che facilitano i programmi di screening e di prevenzione da questo punto di vista perché il vecchio adagio lo dice sempre prima si interviene e meglio è. Tra tutte le complicanze cardiovascolari che possono colpire il paziente affetto da diabete mellito la più pericolosa è lo scompenso cardiaco ovvero quando il cuore non riesce a pompare una quantità adeguata di sangue in base alle esigenze del corpo come dimostrano le evidenze scientifiche mostrate nel corso del convegno attraverso gli studi clinici internazionali. Ma anche nel paziente diabetico è possibile parlare di prevenzione e di corretta informazione. La situazione patologia cardiovascolare e diabete vede una stretta comunicazione non a caso vediamo e contattiamo i diabetologi del nostro ospedale praticamente quotidianamente perché è particolarmente frequente vedere il paziente cardiopatico ischemico ma anche scompensato o aritmico che ha una patologia diabetica quindi è un paziente molto impegnativo. Il diabetico nello scompenso cardiaco è ancora più penalizzato e quindi la situazione è la prevenzione, prevenzione con aggressione forte fin da subito di tutte di tutta la patologia cardiovascolare.